Ancora non sazio dei record per diventare di nuovo un prematista mondiale con alcune sfide stravaganti. Stiamo parlando naturalmente di Stefano Venneri e sta preparando un'avventura con il Lula Hop. Di cosa si tratta? 30 settembre, il record del Guinness di Lula Hop, bisognerà ballare l'Ula Hop, 700 persone alla Polisportiva Cabanette per battere il primato attuale che sono 637 persone che hanno ballato l'Ula Hop in Australia lo scorso anno. Un'iniziativa a scopo benefico per sostenere quella che è l'associazione dei commercianti del quartiere Cristo in vista della festa del Cristo ma anche un modo per andare a riscoprire quello che era un po' il passatempo di molti giovani e non solo in quegli anni, i primi anni 80 appunto che questo cerchio magico dell'Ula Hop. In cosa consiste esattamente? Chi vuole prendere parte? Può andare sul sito stefanovenneri.it, c'è il modulo di adesione oppure presentarsi direttamente quel giorno il 30 settembre dalle 14.30 alla Polisportiva Cabanette, gli consegneremo l'Ula Hop che rimarrà suo e consisterà nel ballare 3 minuti con questo cerchio senza farlo cadere, è un'impresa incredibile però insomma vedremo la città di Alessandria quanti bravi ballerni di Ula Hop scoprirà in quel giorno. E quali sono i vincoli organizzativi di questa sfida curiosa e impegnativa? Sì, beh intanto portare più di 700 persone in un campo sportivo, insegnarli a ballare l'Ula Hop per 3 minuti è quello di avere poi comunque la possibilità di non farli cadere. Su 700 persone abbiamo un margine del 10% che potrà far cadere l'Ula Hop. Se superiamo questo 10% il record sarà invalido ma noi pensiamo di avere tanti bravi ballerini o anche chi vorrà divertirsi quel giorno perché sarà una grande festa oltre al record di band musicali, animazioni, musica e divertimento. Stefano tra tutti i tuoi record battuti e imbattuti ancora qual è quello a quale ti senti più legato? Beh tutto in particolare ma quello della radio che è stata la prima esperienza bellissima quando ho finito le 183 ore facevo fatica io a credere di aver vinto questo primato è stata un'esperienza bellissima, si parla tanto dei reality show in tv costruiti, finti o non finti il nostro era tutto vero, tutto vero con gente normale, cittadini che venivano a trovarci quello della radio delle 183 ore rimarrà nella storia soprattutto perché ancora oggi facciamo fatica a far credere che abbiamo fatto 183 ore in radio a gente che non ci conosce. Da tanti anni organizzi spettacoli e animazione per colorare la città e torna di nuovo la corrida. Sì dopo qualche anno di pausa la rimettiamo in piedi, con me ci sarà Mauro lo showman del carrossone musicale, abbiamo una coppia nuova insieme e porteremo nuovamente i personaggi locali che vogliono sibersi in giro per la provincia. È una manifestazione insomma in questo momento di tristezza di molte famiglie italiane, di crisi per passare magari anche l'autunno con delle serate divertenti in modo che si possa comunque passare un sabato sera con ingresso libro gratuitamente per divertirsi e stare insieme. Grazie a tutti.